La salma di Nicolo Di Rosa è stata restituita ai familiari e c'è adesso attesa per l'esito dell'autopsia, unico elemento a poter fare chiarezza sul decesso dell'uomo. Intanto nel registro degli indagati alla procura di modica è finita anche l'autista dell'ambulanza. Di Rosa, pozzallese di 54 anni, è morto lo scorso 7 maggio a seguito di quello che doveva essere un intervento di routine, ovvero una semplice riduzione di ulcera. Il registro degli indagati conta ad oggi 21 persone tra medici, infermieri e operatori sanitari del maggiore. L'accusa per l'autista dell'ambulanza e il presunto ritardo nel trasporto esigente all'ospedale ad un centro specializzato per quelli che dovevano essere accertamenti specifici e urgenti. Pare che l'arresto cardiorespiratorio che ha portato alla morte di Rosa sia stato causato una sospetta embolia, ma solo l'autopsia potrà accertare la verità. L'esame è stato eseguito da due consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla procura e all'autopsia avrebbe altresi preso parte l'avvocato Gennaro del Foro di Siracusa che assiste alla congiunta del deceduto. Di Rosa ha lasciato moglie un figlio di 16 anni che adesso potranno dare l'estremo saluto al proprio congiunto. Grazie.